Goletta Verde e Parco Nazionale dell'Asinare insieme per chiedere alla Regione Sardegna un maggior impegno per migliorare i servizi prioritari di fruizione del parco, dalle bonifiche alla riconversione in chiave green dell'industria, dalla mobilità interna ai servizi sanitari, senza dimenticare il grave problema dell'approvvigionamento e della gestione della risorsa idrica che sta mettendo in ginocchio l'Asinare. Sono queste le richieste che arrivano dalle Gambiente in occasione dell'arrivo di Goletta Verde, la storica campagna tutela del mare e delle coste italiane, realizzata grazie al sostegno del CONOU e dei partner tecnici Aquafilm Nova Montnau, che è arrivata oggi all'isola dell'Asinare promuovendo un incontro in occasione del ventennale di ristituzione del parco, un'occasione di confronto svoltasi in navigazione da Calareale a Fornelli, a cui hanno preso parte Vincenzo Tiana, Presidente Comitato Scientifico di Legambiente Sardegna, Antonio Diana, Vicepresidente del Parco Nazionale Asinara, Vittorio Gazzale, direttore AMPA Asinara, Sean Wheeler, sindaco di Porto Torres, Pietro Marongiu di Legambiente Sardegna. Flynn Sea Life, che terminerà nel 2020, sta già coinvolgendo nella lotta a rifiuti marini gli appassionati e i lavoratori del mare, uniti in una campagna di prevenzione e pulizia di oltre 200 spiagge fondali, e promuoverà l'impegno attivo per l'ambiente marino anche nelle scuole. Il progetto inoltre fotograferà la realtà italiana, identificando zone maggiormente colpite che necessitano attenzione e fornirà alle autorità, attraverso l'esperienza dei cittadini, un contributo importante per comprendere la natura e l'origine dei rifiuti. Flynn Sea Life si occuperà anche di individuare, con l'aiuto di operatori e amministratori locali, le migliori pratiche di gestione e prevenzione e di promuovere su scala nazionale e mediterranea linee guida condivise.